Pillole di animazione e clownoterapia. Più di 100 giovani del passaporto del volontariato ieri hanno incontrato i volontari dell'associazione Vippo Palermo, un'occasione per sperimentare nuove modalità di relazione tecniche ed animazione e comprendere che niente si improvvisa, soprattutto nelle attività di volontariato ospedaliero. I formatori sono stati, come dicevamo, i volontari clown di corsia dell'associazione Vivere in Positivo di Palermo. Diverse le associazioni che hanno partecipato. Sono stati coinvolti alcuni ragazzi delle scuole per far loro conoscere anche la realtà del volontariato e metterli davanti a quello che è l'esperienza pratica. Noi come Abuls possiamo fare servizio presso tutte le corsie, quindi sono stati sia in pediatria che in medicina, chirurgia. Insomma, hanno avuto la possibilità, anche nelle malattie mentali, hanno avuto la possibilità di vedere le diverse patologie, anche i diversi problemi che naturalmente si devono affrontare all'interno di una corsia. I ragazzi l'hanno vissuto veramente in maniera positiva. Sono stati entusiasti nel partecipare e addirittura mi hanno invitato a continuare a fare altre attività. E questa è stata veramente una bella esperienza per me, in quanto ho visto questo entusiasmo, ma anche per loro, perché ho notato questo loro piacere di fare questa esperienza. Quindi è stato positivo. Il corso di ieri è stato promosso dalla Casa del Volontariato e realizzato con il supporto del Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo. Abbiamo fatto richieste al CESVOP affinché venisse appunto un gruppo preparato per dare la possibilità ai giovani di imparare. Ora noi siamo nel reparto di ginecologia ostetricia che facciamo volontariato lì da parecchi anni. Abbiamo chiesto anche di poter dare questo momento di sorriso appunto ai bambini in pediatria. Ecco, imparando i giovani possono farlo. È un modo come buttare i ponti per dare un po' di gioia, insomma. Ecco, in ospedale sicuramente i bambini non ci stanno volentieri. I ragazzi sono spinti dalla voglia di fare volontariato perché sempre più sono a contatto comunque con ragazzi che ne hanno bisogno, ragazzi disabili. Quindi sono spinti un po' con voglia ad aiutarli. Anche nelle periferie si evita spesso di stare in giro, quindi coinvolgere tutti i ragazzi. Siamo noi stessi che li reclutiamo, tra virgolette, per aiutarci a fare queste attività.